Le chiedevo, ha avuto la sensazione di essere l'unico arrabbiato per il pareggio di Siena dopo la partita? No, questo no. Se così fosse, la cosa un po' mi preoccuperebbe. Però, scusamo, eravamo di fatto una squadra che con i denti e con le unghie cercare di aggrapparsi ad una possibile salvezza, quindi non era certamente facile. Poi, una volta fatto questo tipo di considerazione, ci sono anche delle valutazioni da fare verso noi stessi. Ci sono sicuramente valutazioni che devono farci comprendere fino a dove siamo arrivati e dove si poter, forse con un pizzico di convinzione in più, arrivare. Ora, ormai è un partito chiuso e adesso possiamo pensare a Udinese, pensare alla prossima e cercare di fare ancora meglio. Le volevo chiedere la seconda e ultima mia, proprio su Udinese, fare un punto un po' su questo momento della squadra. Loro chiaramente hanno un di Natale. Che si può sempre andare in forma, non ero aggiornato. Comunque è una squadra in buona forma, in buona salute, dentro in casa. Assolutamente, è una squadra che sta facendo bene, ultimamente sta facendo molto bene, quindi anche l'aspetto psicologico ti dà una carica e, come dire, un'autostima ancora superiore. Quindi questo sarà una componente in più a favore del nostro avversario che ci dovrà far capire che quanto abbiamo fatto non sarà sufficiente, ma bisogna fare anche da parte nostra qualcosa in più. Non sarà facile, ma questo è uno dei miei compiti, e quindi cercherò con tutta la mia energia e con tutte le mie forze di far capire alla squadra e ai ragazzi che questo sarebbe un errore imperdonabile. Non farlo. Quindi la concentrazione, il tipo di modalità che dovremmo avere da qui fino in fondo dovranno essere quelle della squadra che sia costruita questa tranquillità quasi totale e perché questo deve essere il nostro, il nostro, il nostro, un quadrimico. Se no, non vi devo fare ancora un passo in via. In tal senso aggiungo, ci sono degli aspetti particolari che dovrà avvenire da quelle prossime settimane? No, no, no. I miglioramenti, intendo. Non ho nulla di particolare, se no quello di dare continuità, quello che si è fatto fino ad oggi. Quindi da parte di tutti, anche da parte di quei protagonisti che hanno avuto maggiori chance di giocare e dal che dirlo di quelli che hanno avuto meno spazio diventa una cosa abbastanza spontanea. Ma soprattutto da quelli che hanno avuto più spazio e hanno avuto più continuità, voglio vedere, voglio vedere, è veramente un rascinale importante. perché su questi giocatori, su quelli che hanno avuto più continuità di prestazione, vogliamo basare anche quello del futuro della squadra e quindi fare tutti i ragionamenti di conseguenza. Mister, le faccio una domanda per quanto mi riguarda. Non so che lei non ha una domanda in casa degli altri, però in relazione alle problemiche, anche all'ultimo fine settimana, il Presidente Moratti ha parlato di una casa di buona fede, che non crede alla buona fede. Ecco, pensa che questo tipo di espressione, una riflessione generale che richiedo, possa avvelenare, essere pericoloso, ancora per l'ambiente avvelenando per il momento il futuro. Le cose, se si strumentalizzano, possono diventare verenose. Se le cose si utilizzano per un fine positivo, allora possono essere costruttine. E' chiaro che se, per tornare a cinque giorni fa, dalla chiacchierata che ho fatto ieri alla gazzetta, si volti là fuori solo il torbido, non siamo più in questo modo di ragionare. Allora, si è sempre al solito ragionamento, al solito discorso, dove si predica bene, poi si razza la mano. Nel momento in cui ci sono delle difficoltà, ci sono anche degli errori, ci sono delle penalizzazioni, intese come valutazioni errate, e che quindi poi alla fine ti portano ad una sconfitta, o ti tornero dei punti, ci sentiamo liberi di poter esprimere sempre tutto quello che vogliamo. E' chiaro che ognuno è libero di farlo, ognuno parla di se stesso, e quindi è giusto che decida come vuole, di quello che fa e di ciò che dice. Io continuo a dire che non mi ci ritrovo, non mi ci ritrovo in questo modo di ragionare, e soprattutto non mi ci ritrovo in questo modo di strumentalizzare le cose. Quindi, non è il soggetto nello specifico che sbaglia soltanto, ma poi è tutto quello che ne viene di conseguenza, perché da una frase detta, tutti quanti cercano di ricavare qualcosa che possa essere utile a ingigandire la cosa, a sfruttarla a livello mediatico, sulla stampa, quindi noi siamo tutti bravi e pronti a puntare il dito contro uno, però come spesso accade, si tende a nascondersi dietro un dito, ma è difficile passare inosservati soltanto con un dito davanti. Buongiorno mister, ieri sera nel talk show, oltre ovviamente al discorso sull'allenatore, si è parlato anche di Biabini, e ci si è domandato come mai questa evoluzione del cacciatore. Noi ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa, e abbiamo fatto ancora la domanda, ecco, volevo chiedere, quindi, la questione riguardante Biabini, è una questione fisica, una questione psicologica, una questione tattica? No, mi sembra che Biabini abbia fatto, da un punto di vista fisico, un po' fatica, perché la valutazione di Biabini è qual è? Che non rende più come la prima parte della stagione, non riesce più a saltare l'uomo. No, ci sono, insomma, è partito un paio di ruote a 100 all'ora, è arrivato davanti alla porta, insomma, poi è chiaro che può fare ancora meglio, può fare ancora di più, però Biabini, se non sbaglio, è tra i giocatori che è ancora di più, se vogliamo togliere il periodo che ha avuto il problema a ginocchio, e quindi, quando c'è, sta bene, chi sei che stia fuori. È chiaro che la Biabini, è riuscito a aspettarsi molto, e io mi aspetto molto da Biabini, e quello che sta facendo non è meglio quello che può fare, quindi cercheremo di farlo a questo. Quindi è una questione psicologica? Ma, insomma, tutte le cose, tutte le componenti sono, ha giocato col 4-3-3, quindi dal punto di vista tattico mi sembra che possa essere un ruolo che è giusto, su misura di lui, nella loro ricerca di lui all'esterno, tutti i modi che lui ha già fatto tante volte, quindi con prestazioni di assoluto livello, perciò può essere anche un momento un po' più opaco, però direi che nelle prestazioni lui fa sempre delle cose buone, le alterna molto, forse questa alternanza fa sembrare il suo rendimento inferiore e le dare un po' più continuità. posto? Ok.